Energia, impresa e spazio. Sono cinque gli accordi tra Italia e Algeria firmati in occasione della visita ufficiale del paese nordafricano del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Una due giorni ad Algeria che ha permesso di celebrare il ventesimo anniversario della firma del trattato di amicizia, cooperazione e buon vicinato tra Italia e Algeria e sottolineare l'eccellenza delle relazioni tra i due paesi. L'Algeria è un partner affidabile e strategico, ha detto il premier al termine del bilaterale con il presidente algerino Abdelmajid Tebun. Algeri è il principale fornitore di gas dell'Italia e la cooperazione energetica si estende anche alle rinnovabili. In questo ambito sono state fermate due intese tra Eni e l'omologa algerina Sonatrac per ridurre le emissioni di gas sera e incrementare le esportazioni. Nel corso della conferenza stampa congiunta con Tebun, Meloni ha definito l'Algeria un partner fondamentale per il piano Mattei per l'Africa, basato sul rapporto di collaborazione e per trasformare le tante crisi in possibili occasioni.